Benvenuto al professor Fabrizio Salvinelli, benvenuto caro professore. Questo è il periodo, io ricordo il professore che è il direttore del reparto di Otorino-Laringoiatria al Politico Campus Medico di Roma. Questo è il periodo, beh, tormento sinusite per alcuni è una cosa stagionale e per altri invece, come dire, è un tormento cronico. Però c'è un però, è difficile la diagnosi, diciamolo subito, professore. Però lei ha messo a punto una tecnica che può risolvere al 100% questo problema. Io ho detto che è di difficile diagnosi la sinusite e tante volte, soprattutto in questo periodo, si può confondere con il Covid. Allora, iniziamo a capire quali sono i sintomi della sinusite. Guardate, sinusite sta per sinus, che vuol dire cavità, e ite, infiammazione. Quindi è un'infiammazione di queste cavità che sono accanto al naso, paranasali, che servono per dare più solidità al cranio, che servono per consentire gli scampi gassosi e l'elasticità. Se si infiammano, il primo fastidio sarà un dolore nelle zone riferite. Per cui ci sarà un dolore... Lo posso far vedere? Eccolo qua. Ci sarà un dolore sopra gli occhi, quindi nella zona di proiezione dei seni frontali, e poi un dolore sugli zigomi, quindi nella zona di proiezione dei seni macellari. E poi una cefalea dovuta anche all'infiammazione dei seni profondi sfenoidali. Quindi avremo questi sintomi che sono tipici, proprio tipici della sinusite. Poi ci sono altri sintomi, che sono ostruzione nasale, secrezione nasale, e poi anche perdita di olfatto e gusto, o riduzione dell'olfatto e del gusto, e poi anche altri sintomi come difficoltà respiratoria, e a volte anche sbandamenti, che però non sono le vertigini rotatorie che sono a partenza dall'orecchio, ma degli sbandamenti soggettivi. E poi fastidio alla luce e difficoltà a concentrarsi. Tutte queste cose sono anche del Covid, ma quei segni che dicevamo prima del dolore sulle zone di riferimento delle cavità paranasali sono tipiche della sinusite. Quindi dolore sopra gli occhi, dolore agli zigomi, dolore al vertice della testa e senso di cefalea. Questi sono tipici della sinusite. Allora, abbiamo detto che è di difficile diagnosi, per cui insomma tante volte le persone possono confondere con il Covid, poi magari si fa anche il tampone e si esclude che sia Covid, però ci sono dei segni anche molto particolari. Abbiamo capito i sintomi, parliamo di cause. Quali sono le cause della sinusite, professore? Allora, guardate, abbiamo visto che i seni sono delle cavità che devono essere areati da dei condotti che dal naso arrivano a queste cavità. Quindi voi immaginate una delle cause più frequenti, gli sbalzi di temperatura. Noi possiamo andare nel deserto a più 50 gradi o a meno 40 nell'Antartide, però non possiamo sottoporsi a sbalzi di temperatura violenti. Quindi se noi siamo con l'aria condizionata all'estremo caldo e poi usciamo al freddo, l'organismo che cosa fa? Si organizza stringendo le arterie quando è freddo e quando è caldo dilatandole. Allora, quando è caldo dilata tutte le arterie e noi andiamo fuori, è come se fossimo nudi in mezzo al vento. Per cui prendiamo una sinusite, quindi sbalzi di temperatura, sbalzi di pressione. Cioè se abbiamo un raffreddore, abbiamo una difficoltà respiratoria, prendiamo l'aereo o andiamo in montagna, o peggio che peggio, o facciamo un'immersione, lì la sinusite è sicura. E poi naturalmente il problema dell'allergia che gonfia la mucosa nasale e quindi riduce lo spazio respiratorio e la comunicazione dal naso alle cavità paranasali e infine una deviazione del setto nasale, un'ostruzione respiratoria, una poliposi, tutto ciò che impedisce al naso di areare bene porta a un'infiammazione delle cavità paranasali che non ricevono l'aria. Insomma, sono tante anche le cause che possono scatenare una sinusite. Adesso rispondiamo a Paola, ci scrive da Novara e ci chiede per la sinusite e il naso chiuso può essere utile fare l'aereo sol a casa? Ecco, guardate, immaginiamo queste cavità che si sono chiuse si sono chiuse perché i dotti non portano aria quindi aumenta l'anidride carbonica si riduce l'ossigeno e si libera del muco ora questo muco non riesce a uscire perché le cavità sono chiuse se noi mettiamo in un aerosol solamente il muco litico che scioglie il muco aumenterà il volume questo muco aumentato di volume premerà sulle pareti e darà molto più dolore e problemi all'orecchio quindi attenzione, l'aereo sol sì ma dipende da quello che ci mettiamo quindi ci dobbiamo mettere inizialmente un antinfiammatorio e poi dare un antinfiammatorio per via generale quindi per compresse e magari anche un antinfiammatorio per via nasale e questo per i primi due giorni consigli da portare a casa per i primi due giorni al terzo giorno possiamo mettere anche il muco litico all'interno dell'aereo sol e questo diciamo per quanto riguarda l'aereo sol e le terapie farmacologiche allora questo per quanto riguarda l'aereo sol che all'interno ci si mettono anche delle sostanze ovviamente dei terapie dei farmaci ma è sempre utile o si deve assumere l'antibiotico per curare la sinusite? benissimo allora vorrei metterlo chiaro secondo il mio parere che poi è un parere scientifico antibiotico subito no 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 perché voi immaginate un esempio che io faccio sempre una stanza chiusa con la finestra chiusa con la porta chiusa infetta noi che facciamo non entriamo lì e disinfettiamo e mandiamo disinfettante ma apriamo la finestra apriamo la porta e ventiliamo allora reciproco perché se diamo subito l'antibiotico creeremo una resistenza batterica i batteri non si risolvono le finestre non sono aperte e ricominceranno peggio di prima quindi consigli per casa abbiamo detto iniziamo con l'ariosol con un antinfiammatorio prendiamo le compresse antinfiammatorio uno spray antinfiammatorio per due giorni al terzo giorno possiamo mettere il mucolitico e dal quarto giorno se la situazione non è migliorata l'antibiotico e quanto l'antibiotico si fermi professore dopo lo dobbiamo dire abbiamo per forza lo stop pubblicitario se no mi menano da dietro non lo vede però insomma ci dobbiamo fermare una piccolissima perché non si ferma qua perché c'è una tecnica messa a punto dal professore ce ne parlerà subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria restate con noi ben tornati in diretta siamo in compagnia del professor Fabrizio Salvinelli stiamo parlando del tormento sinusite questo è il periodo si riaccentano un po' tutti i sintomi l'abbiamo lasciata professore l'ho bloccata stiamo parlando della terapia farmacologica allora come come ci si deve comportare il termine il termine è quindi alla fine quando siamo al quarto giorno con l'antibiotico dovevamo rimasti per almeno cinque giorni l'antibiotico quando si rende necessario o tre giorni negli antibiotici retard e questo è per cui l'aerosol sì però insomma dal quarto giorno quando i sintomi non iniziano a sparire però c'è una novità assoluta perché lei ha messo a punto una tecnica chirurgica e questa tecnica chirurgica a chi è indirizzata consigliata professore sì dunque voi avete visto che la sinusite la sinusite ha una terapia medica bisogna agire sulle cause e quindi prevenire l'insorgenza però quando queste cause sono croniche la sinusite diventa recidivante o cronica e allora noi dobbiamo agire con un intervento chirurgico per risolvere il problema l'intervento chirurgico deve essere ovviamente preceduto da una visita dove lo torino vede il naso la gola l'orecchio e valuta un attac a raggio sottile con BIM per verificare se ci sono delle alterazioni nella mucosa nasale nella mucosa nasale e nella mucosa dei seni paranasali e in genere che cosa si vede si vede una mucosa così sofferente che ormai non torna più alla normalità per cui è come un panno sporco che mantiene i polni le polveri gli allergeni le sostanze irritanti e l'infezione cronica ecco che cosa stiamo vedendo adesso professore stiamo vedendo adesso l'intervento per via microscopica perché io ho ideato una tecnica chirurgica visto che opero i tumori del cervello e dell'orecchio attraverso la fossa cranica laterale e frontale allora noi utilizziamo sempre il microscopio che è una una metodica molto molto precisa allora mi sono detto perché non portare questa tecnica così delicata anche nella chirurgia dei seni paranasali ovviamente noi utilizziamo quello che già c'è cioè l'endoscopia e le tecniche endoscopiche quindi con le ottiche ma aggiungiamo la tecnica microscopica e siccome due idee sono meglio di uno in questo caso uno più uno fa quattro cinque non fa due quindi noi l'ho chiamato questa tecnica MECA che sta per microscopic endoscopic combined approach che vuol dire approccio combinato microscopico ed endoscopico quindi due meglio di uno e con questa tecnica noi risolviamo le sinusiti nell'immediato e nel futuro nella prevenzione anche per tutto il futuro della persona in maniera che abbiamo una migliore risoluzione del problema una maggiore rapidità un migliore effetto e questo per sempre e questo questi vantaggi per il paziente nell'immediato per cui la persona che si sottopone a questo tipo di intervento poi non avrà più problemi con una sinusite così antipatica e fastidiosa assolutamente questo è proprio l'obiettivo poi evidentemente se un paziente allergico e ha una predisposizione alla mucosa che si rigonfia noi faremo un intervento che migliora così tanto lo spazio respiratorio che anche quando questo spazio si richiude sarà sempre sufficiente quindi facciamo una camera più grande in maniera che se la occupiamo con troppi mobili comunque c'è spazio e il paziente entra deve stare un po' di giorni il giorno dopo va a casa per cui insomma non è un day hospital però insomma massimo una giornata anestesia totale un intervento mini invasivo con i massimi risultati certo poi si devono togliere i tamponi dopo il terzo giorno o quarto giorno a seconda del tipo di intervento però questo vale per tutta la vita l'importante è questo che uno cambia radicalmente la qualità della vita soprattutto nella stagione deputata che è questa tra l'autunno e l'inverno tra il cambio di stagione che non è niente male parliamo di prevenzione come dobbiamo prevenire in qualche modo se possiamo la sinusite sì allora questo vale per tutti intanto abbiamo già detto gli sbalzi di temperatura se siamo in macchina ad aria condizionata calda e usciamo fuori al freddo viceversa questa è una sinusite quasi sicura proteggiamoci dagli sbalzi di temperatura anche e soprattutto per i bambini cioè immaginate un bambino che va in piscina esce fuori dal caldo al freddo le cavità sono più piccoli i spazi sono più ridotti la sinusite è molto facile da ottenere in questo caso quindi sbalzi di temperatura no attenzione anche alla diciamo come dire all'allergia proteggiamoci dall'allergia perché l'allergia naturalmente e come si fa a proteggere allora guardate uno naturalmente sono gli antistaminici nel momento acuto o il vaccino nel momento generale come prevenzione ma soprattutto per gli allergici e per tutti i lavaggi nasali i lavaggi nasali sono una cosa molto utile per tutti perché portano via il muco la secrezione i pollini i polveri dalla mucosa senza dare nessun danno quindi noi possiamo farli a ripetizione anche e soprattutto nei bambini ma anche negli adulti anche negli allergici senza danneggiare la mucosa insomma lavaggi nasali per tutti grazie grazie a professor Fabrizio Salvinelli grazie per questi consigli così utili adesso voltiamo pagina grazie a tutti